Io ci terrei soltanto a dire che questa situazione, quella in cui ci siamo trovati, cioè 20 appartamenti vuoti e 9 pieni, quindi loro sono 200 e noi siamo 30 forse, questa non è integrazione. Solo questo vorrei dire. Non si tratta di non voler dare ospitalità, non si tratta di non voler dare un supporto a queste persone. Lo capiamo tutti che stanno venendo da delle situazioni difficili, lo capiamo tutti che stanno attraversando con i barconi, lo capiamo che hanno lasciato le loro famiglie. Io sono mamma, posso solo immaginare se qui scoppiasse la guerra, anche io probabilmente andrei da un'altra parte, ma non è questa la soluzione, non è questa l'interazione. Non è questo il modo, dai, ha ragione signora. Non è questo il modo. Signora, la ringrazio tanto per questo intervento, perché una mamma che lo dice con un bambino in braccio e dice cose così ragionevoli... Io devo lottare per mio figlio, non per me, ma per i miei figli. È chiaro.